Il 18 gennaio buongiorno e buona domenica con l'assistenza tecnica in regia di Nicola Passarelli vediamo quali sono le notizie della nostra prima edizione del telegiornale in apertura un'ultima ora incidente nella notte a Campobasso intorno alle 3 circa tra una microcar e una monovolume all'incrocio tra via Gazzani e viale Elena dopo la ricostruzione dei carabinieri è emerso che la microcar che sopraggiungeva da via Gazzani non si è fermata al segnale di precedenza scontrandosi con la macchina che percorreva invece la strada principale la microcar completamente distrutta aveva a bordo due ragazzine minorenni entrambe trasportate al pronto soccorso dove è stata riscontrata la perdita dei sensi per la passeggera e contusioni varie per la conducente mentre per il conducente dell'altra auto non è stato necessario l'intervento dei sanitari sul posto presenti vigili del fuoco 118 carabinieri e polizia per deviare il traffico e fare i rilievi del caso approvato dalla giunta comunale il certificato di collaudo dei lavori del collegamento pedonale sopraelevato dal terminal bus a via Mazzini sul tema abbiamo intervistato il sindaco di Campobasso Antonio Battista ascoltiamo Tonino Danese sindaco Battista la giunta comunale di Campobasso ha approvato il certificato di collaudo dei lavori del collegamento pedonale sopraelevato dal terminal bus a via Mazzini Sì, in pratica stiamo chiudendo il vecchio lotto, il lotto iniziale e quindi con i collaudi proprio per dare inizio alla seconda fase al secondo finanziamento che ricordo sono di circa 1 milione 800 mila euro che prevede l'ultimazione del vecchio tratto più il nuovo manufatto che scavalca la rotatoria di via Gian Battista Vico quindi chiusura di un lotto e apertura di un altro Quando inizieranno i lavori? Io conto in pochi mesi perché adesso possiamo iniziare le procedure di affidamento dei lavori all'impresa risolto alcune questioni legate a delle riserve ma insomma c'è tutta la buona volontà da parte di tutti di chiuderla finalmente dopo decenni questa storia che voglio sottolineare porterà un ricollegamento di una quartiere, una parte della città alla parte storica del centro quindi con accorciamento dei tempi, bonifica dei siti, azioni di recupero e soprattutto ecco il collegamento del terminal alla città di Campobasso attraverso un passaggio pedonale molto ridotto con pochi metri si sta al centro di Campobasso Quindi possiamo dire entro il 2018 l'inizio dei lavori e poi il termine? Direi di sì e entro il 2019 la ultimazione dei lavori Poi c'è il terminal, il terminal in sé va rivisto, va ristrutturato, è comunque una struttura per molti tratti fatiscenti Dico subito, riprenderemo il progetto di finanza, ci siamo un poco fermati su quella iniziativa perché le scuole e altre questioni ci sono piombate addosso e quindi abbiamo risolto, stiamo risolvendo la questione legata alle nuove scuole della città Ritorneremo fra qualche settimana a parlare e a lavorare sul terminal Col diretti Confagricolture, CIA, CISL, WILL e CGL hanno stipulato il contratto regionale per i lavoratori agricoli il quale integra quello che le stesse sei sigle firmano periodicamente a livello nazionale per la prima volta siglato un unico contratto valevole su tutto il territorio molisano Altra importante novità è prevista l'immediata costituzione entro le prossime settimane dell'ente bilaterale strumento che potrà offrire direttamente la formazione per le imprese che assumono mano d'opera agricola nonché semplificare l'iter burocratico per la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro in agricoltura il nuovo contratto entrerà in vigore a partire dal primo marzo Bene è tutto per l'edizione del nostro telegiornale, passiamo adesso alla rassegna stampa Andiamo subito sulla home page del giornale del Molise Sanità, ancora una sconfitta per frattura, il TAR boccia l'istituzione dell'hotel Il pezzo a firma di Anna Maria Di Matteo, ancora una batosta per il commissario ad acta frattura ancora una volta gli atti della struttura commissariale finiscono sotto la lente della giustizia amministrativa e vengono sonoramente bocciati È il caso dell'istituzione dell'OTA, un organismo tecnicamente accreditante chiamato a verificare l'esistenza dei requisiti per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private Vediamo le altre notizie In evidenza, Alessandro Di Battista riempie la piazza Allarino, schieratevi e date fiducia al Movimento 5 Stelle D'Avenafro, migranti a Cepagna, chiesta la convocazione del Consiglio Comunale Poi un episodio davvero raccapricciante Cinque cuccioli chiusi in un sacco e buttati in un fosso Questi cuccioli cercano una mamma che possa allattarli Andiamo a vedere l'apertura che fa primo piano Molise Punta sulla politica Alessandro Di Battista fa il pienone Allarino, l'esponente del Movimento 5 Stelle arriva in camper e dice Ammazza quanta gente Noi al sud siamo molto forti Ma la legge elettorale è fatta per non farci vincere Dice l'esponente dei 5 Stelle Poi l'attacco al PD è indecente se continua a salvare Ide Luca E sui rimborsi fieri di una forza che restituisce 23 milioni di euro Vediamo adesso le notizie in taglio alto Grande festa a Boiano per la nuova scuola primaria Ieri l'inaugurazione Sant'Angelo del Pesco Soldi per le strade La sindaca dice la regione Fa figli e figliastri Da Termoli la donna ritrovata sulla spiaggia Oggi i funerali Campobasso Marcia a piede sconnesso Un'anziana cade e batte la testa Poi c'è il monito del vescovo Cibotti Ai politici Che dice onestà e lealtà Restiamo sempre alla politica Dai Sernia Esperienza e passione In campo la squadra della lista civica Lorenzin Conflitto di interessi Il Tar annulla le nomine OTA Anche su primo piano la vicenda che riguarda il mondo della sanità Poi il carnevale a Larino Il rinvio non spegne l'entusiasmo Boom di presenze alla sfilata dei carri Vediamo adesso le notizie sportive L'anticipo Campobasso Altalena vincente A Giulianova i Rossoblu si impongono 4 a 2 sul San Nicolò Serie D L'Agnone riceve l'Avezzano Out Santoro C'è De Stefano Eccellenza Pari Sernia Ma è utile ad allungare Vasto Girardi K.O. sorride il Venafro Pallacanestro Caffè risorgimento Senza scampo Con la Stella Azzurra Dynamic e Derby Calcio a 5 Troppo Ortona per la Chaminade CLN 7 bellezze Contro il Canosa Pallavolo L'Europea 92 Crolla in casa Contro il Casal dei Pazzi Roma E da primo piano Trasferiamoci adesso Alla Prima pagina del Quotidiano del Molise Anche qui In apertura La politica Di Battista in Molise Dice Svegliatevi L'esponente dei 5 stelle Arringa la piazza di Larino Il nemico È l'astenzionismo I veri problemi Dice Di Battista Non sono Renzi e Berlusconi Ma siamo noi Perché abituati Troppo spesso Ad abbassare la testa Andiamo in taglio alto Sul quotidiano Con la vita Parla dopo la visita Di Salvini Il Molise Vuole risposte serie Ma c'è chi fa leva Sulla paura Sempre politica Anunzio Luciano Dice Intensificare La rete con la capitale L'esponente politico Ha incontrato Le forche caudine Nuovo polo scolastico A Boiano Frattura E di Biase Celebrano Un giorno Di festa Andiamo a centropagina Con un anniversario Don Vittorio Da 40 anni Guida spirituale Del CEP Dal 1978 Parroco Di San Giuseppe Artigiano Elezioni politiche Come si vota Il 4 marzo Lo speciale Del quotidiano E i facsimile Dallarino Carnevale Tutti incantati Dai giganti Di cartapesta Andiamo a vedere Lo sport Poker dei lupi La doppietta Di Del Duca Il rigore Di Balistreri E la zampata Di Augustus Ribaltano Il San Nicolò Eccellenza Sorpresa in vetta Pari Isernia Vasto Girardi KO Col Treppini E in chiusura Della rassegna stampa Dedicata alle pagine locali Andiamo sulla home page Di Futuro Molise Sanità Annullate Daltare le nomine All'interno Dell'organismo Tecnicamente Accreditante C'è conflitto Di interessi Questo è il titolo Di apertura Di Futuro Molise Vediamo le altre notizie Frattura Distrugge la Molise Dati Da Campobasso Via i cassonetti Dal centro storico E nuovo step Per la raccolta Differenziata Per eseguire Un'ecografia Completa All'addome All'ospedale di Termoli Occorrono 295 giorni E dopo le pagine locali Andiamo a vedere Come aprono Questa mattina I quotidiani Nazionali Diamo subito Uno sguardo Al Corriere della Sera La politica In evidenza Voto La sfida sul Premier Prodi torna E lancia Gentiloni Berlusconi Fa un identikit Invece Che porta A Tajani Si va verso le elezioni Di Maio E le nuove rivelazioni Dice l'esponente De Cinque Stelle Fuori Furbi E Massoni Poi attacca De Luca Junior E dal Corriere Passiamo alla prima pagina Di Repubblica Anche qui Le vicende Politiche In apertura Prodi Spinge Gentiloni Il centrosinistra E lui Berlusconi Dice Salvini Al Viminale Ma il capo Del Carroccio Replica Io Premier Scandalo Rimborsi I furbetti Salgono A 16 Figo Dice Il Movimento Cinque Stelle Mai Con la Lega Poi a centro pagina Si parla Di politica Internazionale Ingerenze Nelle elezioni USA A Monaco Nuove accuse Ai russi Restiamo Su Repubblica Con un caso La tipica Vergogna All'italiana Sconti Simbolici Sulle bollette Ecco la beffa Dei rimborsi Per i pagamenti A 28 giorni Da Repubblica Andiamo Alla stampa Il quotidiano Di Torino Fa questo titolo In apertura L'allarme Della task force Italiana Attacco hacker A 24 ore Dal voto Con i tweet Creati negli Stati Uniti Il Cremlino Provava a Influenzare Anche la politica Di Roma Poi la stampa Ospita Un'intervista A Luigi Di Maio Avrò l'incarico Da premier Dice l'esponente Del Movimento Cinque Stelle Che poi aggiunge Salvini È Un pericolo Restiamo Sulla stampa Con una buona Notizia Una fotonotizia Che ritrae Un bel bosco Così saranno salvati I boschi perduti Scrive la stampa Dopo 17 anni Arriva una legge quadro Che proteggerà Le zone Lasciate in rovina Dai proprietari E dalla stampa Andiamo Alla fatto Quotidiano Pressioni E falsi Per far pagare Mille euro Un farmaco Da Ottanta Questo è il titolo Di apertura Del quotidiano Diretto Da Marco Travaglio Che parla Di un patto Occulto Nelle carte Dei PM Di Roma Le manovre Di Roche E Novartis Restiamo sempre Sul fatto Ma andiamo In taglio Alto Epilatori E Beauty Farm A nostre spese La rimborsopoli Di PD Forza Italia E Company 28 candidati Scrive il fatto Quotidiano Coinvolti In scandali Di spese Private Con fondi Pubblici E dopo Il fatto Andiamo al quotidiano Romano Il messaggero Gentiloni L'investitura Di Prodi Berlusconi Salvini Sfida Sui collegi A Bologna Il professore Punta Sul premier Con lui Il paese È più forte Tra Lega E Forza Italia Competizione Sui seggi Per indicare Il nuovo Primo Ministro Poi Una fotonotizia Che parla Della vittoria Della Roma A Udine Vittoria Scaccia crisi 0-2 Con L'Udinese Due lampi Di Under E Perotti Torna La Roma Da Champions E Lasciamo il messaggero Per andare Alla prima pagina Di Libero Si parla Di sanità Vuoi cambiare sesso Vai in USA Tanto paghiamo Noi qui in Italia Sanità Del Menga Scrive Vittorio Feltri Sempre con un linguaggio Molto colorito Un uomo Un uomo vola in California Per l'intervento Poi chiede il rimborso Alla regione Comprensivo di biglietto aereo Per l'accompagnatore E un giudice di Treviso Gli dà ragione Se così fan tutti Anche per altre operazioni Salta il banco Scrive Feltri Restiamo sul Libero Con una fotonotizia Destinata a fare Storia Il titolo che fa Libero è questo Casini è diventato Comunista E si vede Pierferdinando Casini Alleato di Ferro A suo tempo Di Arnaldo Forlani Che parla In una sezione del PD Sotto i volti E i quadri Di Togliatti Gramsci Di Vittorio E Matteotti E dopo Libero Andiamo adesso Alla prima pagina Del Sole 24 Ore Per vedere Le notizie Economiche Il piano per l'Italia Cambia l'agenda Della politica Questo è il titolo Di apertura Più spazio A investimenti Industria 4.0 E fisco Per lo sviluppo La svolta Di Verona Scrive il Sole 24 Ore Anche sull'Eurobond Consensi Dai partiti Per il progetto Di Confindustria Passiamo Alla verità Che fa questo titolo Le bugie Che si insegnano A scuola Scrive Maurizio Belpietro Le fake news Dei libri Per ragazzi Campionario Dei testi Su cui studiano I nostri figli Gli immigrati Risorse preziose Sistemano La demografia E dobbiamo passare Il testimone A loro L'economia Assurde Valute Diverse Dovranno usare Tutti la stessa La famiglia Non c'entrano Il sesso Il sangue Ma solo Il cuore Restiamo Sulla verità Che a centropagina Propone una foto Di Romano Prodi Con questo titolo Torna mortadella Per vendicare Le coltellate Di Renzi E dalla verità Andiamo Al quotidiano Dei vescovi L'avvenire Sicurezza L'Europa Vuole fare Da sola Questo Il titolo Di apertura Dalla conferenza Di Monaco Il rilancio Del ruolo Dell'Unione Europea Sullo scenario Mondiale Mentre risale La tensione Stati Uniti Russia E Juncker Dice Auspica Una unione A due Velocità Restiamo Sull'avvenire Con la Politica Prodi Spinge Gentiloni Nel Movimento 5 Stelle Altri Casi Rimborso Berlusconi Firma Il patto Del forum Sulla natalità Il nostro Governo Per la Famiglia Dice Silvio Berlusconi Andiamo Sull'altro Quotidiano Romano Il tempo L'Islam Vota A sinistra Questo Il titolo Perentorio Che fa il tempo Esclusivo Nelle moschee Nei luoghi Di culto L'invito A votare Contro Salvini E Meloni Se vince La destra Niente Iussoli E restrizioni Sui migranti E centri Religiosi Irregolari Poi Anche Il tempo Propone Questa foto Di Pier Ferdinando Casini Che si è Votato Alla Sinistra E dal Quotidiano Romano Adesso andiamo Al mattino Il quotidiano Di Napoli Renzi Sud Si ha misure Speciali Questo è il titolo Di apertura Che ospita Un'intervista All'ex Premier Ho cambiato idea Dice Serve una scossa De Luca Abbiamo stili diversi Ma sta lavorando Bene Il segretario Del PD Dice Noi primi Ci credo E Prodi Invece In veste Gentiloni Con lui L'Italia Più forte Poi sul Mattino Di Napoli Sempre In prima pagina Questa notizia Inquietante Questo fatto Inquietante Che arriva Dal Messico Scomparsi In Messico Attirati In trappola Il giallo Dei tre Napoletani I familiari Accusano La polizia Locale E dopo Il mattino Andiamo Al quotidiano Comunista Il manifesto Che fa Come di consueto Un titolo Molto Efficace Approdati E si vedono Il premier Gentiloni E l'ex Premier Romano Prodi Abbracciati Nel corso Della convention Che si è tenuta Ieri a Bologna Prodi torna E incorona Gentiloni Serietà Al governo Dice Il manifesto La sua dichiarazione Di voto Per la coalizione E' lo spot Di un centrosinistra Post-Renziano Il segretario Più distretto In un'alleanza Che non voleva Insiste Che avrà Il primo gruppo Ma twitta Anche lui Le foto Del premier E dal manifesto Andiamo al quotidiano Della destra Il secolo d'Italia Che fa un titolo Molto perentorio Alla vittoria E si vedono Giorgia Meloni Silvio Berlusconi E Matteo Salvini Sul palco Le altre notizie In primo piano Procura Copre la sinistra Nel Lazio L'attacco di Parisi Bonino in chiesa E' polemica Fedeli di Napoli In rivolta Aggredirono La Meloni Indagati 21 antagonisti E dopo il secolo E dopo il secolo d'Italia Chiudiamo la nostra Rassegna stampa Con le notizie Sportive Con la gazzetta dello sport Che chiaramente Oggi Non può Non parlare Della tragedia letterale Che ha colpito L'Inter Inter che schiaffi Questo è il titolo Di apertura Malassi Super Genova 2 a 0 Ora i nero azzurri Precipitano Superata Dal terzo posto Dalla Under Roma E Rischia Il quinto posto Clamoroso Autogol Di Ranocchia Pandev L'eroe del triplete Chiude i conti Lotta Champions Altra perla del turco E giallorossi Passano A Udine Poi si parla Del derby Della mole Toro Juve Derby di fuoco Belotti Higuain Fuori gol E Buffon Resta a guardare E con le notizie sportive Si chiude la nostra Rassegna Stampa L'appuntamento È alle ore 14 Con il nostro Telegiornale A voi tutti L'agurio Di una buona giornata